Ciao a tutte, nuova nail art. Ho già iniziato stendendo una base bianca ed ora con lo smalto nero andrò a fare una french diagonale e faccio una prima passata in lampada. Do una seconda passata di nero e catalizzo. Ora vado a fare la decorazione e andrò ad utilizzare il dotter, quindi prendo ancora un po' di smalto nero e vado a fare dei puntini sulla parte bianca ma vicino alla french nera e catalizzo. Sempre col dotter ma stavolta con il bianco vado a fare dei puntini sulla parte nera e catalizzo. Concludo la mia nail art con il top coat glossy e catalizzo. Questa è la mia nail art terminata, spero che vi sia piaciuta. Al prossimo video, ciao ciao!